Ciao a tutti ragazzi, il liceo scientifico Respighi, opzione scienze applicate, dall'anno prossimo offrirà una nuova curvatura di informatica che permetterà a tutti gli studenti e le studentesse appassionati di tecnologie e scienze di approfondire questa materia. In particolare al biennio potrai avvicinarti alla robotica e al coding e anche programmare microcontrollori. Al trienni invece potrai imparare il linguaggio Python e applicarlo all'Internet of Things, alla computer vision e all'intelligenza artificiale. Questa curvatura andrà ad affiancare alle normali lezioni previste dal liceo dei laboratori che andranno a potenziare comunque le già presenti due ore di informatica. Queste attività laboratoriali prevedono che lo studente abbia un ruolo attivo e anche che possa apprendere tutte le competenze insegnate in classe tramite diversi esperimenti. Potrai coltivare le tue passioni prendendo parte a diverse competizioni sia individuali che di squadra e anche partecipando a diversi eventi sull'informatica. Così potrai essere tu il volto del Respighi.